Dottor Parruti, primo dicembre, qual è la situazione nella nostra regione per quanto concerne i positivi? Covid Hospital di Pescara che registra ai noi purtroppo una presenza sempre più numerosa di degenti. Gli effetti di mitigamento, di riduzione della circolazione del virus, almeno fino a generare forme clinicamente rilevanti, probabilmente si cominciano a vedere. In questi giorni si stanno facendo degli screening in provincia dell'Aquila su una buona fetta di popolazione. Su 16.000 persone solo lo 0,04% di queste persone è risultata positiva al Covid-19. Cosa significa, dottor Parruti, tutto questo? Vuol dire una cosa molto importante che quando si fanno degli screening è decisivo per l'esito. il target, il bersaglio che si prende. Cioè, se vi è il sospetto che in una zona vi sia una circolazione molto alta, sintomatica del virus, lì è opportuno andare a segno prendendo tutta la popolazione sotto valutazione. Quando la circolazione invece comincia ad avere una densità minore, la resa degli screening è minore. È comunque utile, ma è una resa minore rispetto all'impresa. Da oggi è possibile nelle farmacie della nostra regione effettuare i test sierologici. Dottor Parruti, quanto è importante tutto questo? Diciamo che sono una serie di possibilità su cui bisogna andare molto nel dettaglio poi della qualità, ovviamente, ma che possano aumentare la nostra capacità di precoce intercettamento delle persone che sono carri rasintomatici. Su il passaggio ad una zona arancione o anche zona gialla in vista del Natale, lei da medico cosa si sente di dire per quello che è stato fatto fino ad oggi e per quello che sarà da qui al 25 dicembre? Ciò che favorisce la diffusione in grandi numeri da parte dei superdiffusori sono le feste, i pranzi, le circostanze in cui per tanto tempo si sta tra conviviali senza mascherina. Se c'è qualcuno che trasmette per la via aerea, tutti i coinvolti possono essere contagiati. L'altra cosa sono le scuole. Noi andiamo verso un periodo in cui tra un po' le scuole saranno chiuse per tre settimane a seguito della pausa e questo ci aiuta tantissimo. Se noi saremo responsabili da subito nei confronti delle regole che ci consentono di ridurre, di minimizzare la trasmissione importante interpersonale, cioè quella dei superdiffusori, sono abbastanza convinto che possa non aversi una grave ricrudescenza se noi abbasseremo il livello.